buona giornata amici da massimo foghetti questa è la rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 20 dicembre 2022 una giornata senza pioggia quindi si prospetta una giornata ideale per fare le ultime compere natalizie e noi prima di leggere i giornali vediamo subito quello che ci propone l'almanacco del giorno oggi si festeggia san liberato san liberato era un console romano che si è fatto cristiano e per questo fu arrestato e condannato a morte per la sua fede sotto il regno di claudio il gotico nel terzo secolo siamo ancora nei momenti culminanti delle persecuzioni che poi con costantino ebbero fine vediamo anche le previsioni del tempo vediamo che oggi vediamo la grafica vediamo che oggi il tempo come ho detto non sarà piovoso ci saranno però nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con una tendenza ad ampie schiarite in serata non sono previste piogge la temperatura massima sarà registrata di 11 gradi la minima invece di 6 gradi il mare è poco mosso e quindi apriamo il giornale sul resto del carlino vediamo subito l'apertura sulla pagina di fano eccola qua colla sulla porta è una notizia di cronaca colla sulla porta allarme ai passeggi e il marchio delle case da svaliggiare è un metodo che lui che i ladri assumono per verificare se qui in quella casa gli abitanti ci sono oppure sono assenti da diverso tempo e cosa fanno cospargono di colla l'uscio di casa se vedono poi la colla si è rotta vuol dire che gli abitanti vanno e vengono e quindi sono presenti se invece la colla rimane integra per più giorni vuol dire che gli abitanti non ci sono e quindi i ladri possono entrare e agire indisturbati i residenti mettono in guardia i concittadini sugli ultimi trucchi escogitati dei ladri durante le feste in zona sono già verificati diversi furti si parla della zona dei passeggi così abbiamo cominciato a controllare gli stipiti e trovata tracce di silicone ha detto una residente si chiama Roberta nel nostro condominio ha raccontato quest'ultima abbiamo verificato di essere stati tenuti per lungo tempo d'occhio da una banda di ladri che utilizza la cosiddetta tecnica della colla purtroppo ce ne siamo accorti troppo tardi dopo che questi malviventi erano riusciti ad entrare in due dei nostri appartamenti quindi attenzione se verificate che nella vostra porta di casa ci sono tracce di colla vuol dire che la vostra casa è stata tenuta d'occhio e attenzionata da parte dei malviventi in classe con cappotto e copertina i liceali dell'appello dell'appolloni scendono in sciopero ebbene abbiamo parlato in passato delle difficoltà della provincia di sostenere le spese per il riscaldamento un po come tutte le famiglie le bollette del gas sono aumentate sono aumentate anche di tanto ed è difficile anche per le istituzioni farvi fronte e per cui i residenti soffrono ma soffrono anche i ragazzi che sono a scuola qui la temperatura insomma non è molto molto bassa si tratta di mantenerla a 19 gradi ma si vede che a 19 gradi i ragazzi soffrono e quindi sono costretti a stare in aula con il cappotto e qualcuno porta da casa anche le coperte per questo al liceo nolfi apolloni fanno uno sciopero soprattutto nella sede di san lazaro dove c'è appunto la scuola d'arte con il consenso delle famiglie dei rappresentanti dei genitori si farà una manifestazione l'appuntamento è nel piazzale davanti all'istituto d'arte al suono della prima campanella delle 8.02 quindi tra pochi minuti tutti gli studenti sono invitati a non entrare in classe questo è un po' l'appello che fanno gli organizzatori di questo sciopero ma ovviamente le istituzioni sono contrarie vediamo anche una notizia di cronaca pubblicata di spalle sul resto delle carlino una inquilina è finita nei guai per aver derubata la padrona si tratta di ornellia guerra di 66 anni di fano che deve rispondere di furto aggravato perché accusata dalla proprietaria di casa di averla derubata era la sua inquilina l'aveva presa la proprietaria a ben volere si fidava insomma ma non poteva pensare che lei sarebbe entrata dopo qualche mese in casa sfruttando la porta socchiusa impossessandosi del portafoglio e una seconda volta anche della borsa della spesa dopo aver visionato tutte le stanze l'inquilina si è giustificata dicendo che intendeva controllare se la padrona di casa avesse perso qualche oggetto insomma è una scusa piuttosto fantasiosa comunque l'udienza è stata rinviata e il giudice poi vedremo che sentenza che sentenza pronuncerà in questo articolo si parla della ciclovia del metauro un progetto che ha destato non solo polemiche per quando riguarda il suo itinerario ma ora le desta per gli espropri che sono soggetti appunto per la realizzazione di questa infrastruttura si allarga il fronte dei cittadini che si oppongono al nuovo percorso molti non sanno nulla incontro in comune suggeriti percorsi diversi ebbene ci sono proteste perché l'itinerario come accade quando si fanno delle vie delle strade nuove ma anche delle piste ciclabili taglia dei giardini si avvicina molto alle abitazioni taglia delle proprietà private e 15 è il malcontento dei proprietari solo in via bellandra da dove è partita la protesta dei coniugi gregorini l'abbiamo vista nei giorni scorsi sempre sul carlino sono sei le aree da spropriare a cui si aggiunge a cui si aggiunge l'abbattimento di una quercia di due cipressi posti lungo il percorso si tratta di una quercia e di cipressi secolari sicuramente protetti comunque commenta un altro residente di via bellandra insomma ci sono diverse qui vediamo l'itinerario in questa fotografia panoramica che ritrae un po l'itinerario della pista della ciclovia del metauro questa è la zona di sant'orso vediamo come la ciclovia si delinea attraverso le abitazioni poi arriva al codma e quindi prosegue nei pressi verso verso rosciano verso la campagna di rosciano per poi procedere verso il confine del comune di fano michela svarca una carezza in un pugno ebbene è una dolce signora di san lorenzo in campo che però è bene non importunare perché è una campionessa di boxe michela svarca una carezza in un pugno bellissimo questo titolo sguardo dolce jeb di acciaio si tratta di una 29enne laurentina che ha vinto la medaglia di bronzo ai campionati nazionali femminili di boxe a gallipoli ebbene il papà le aveva suggerito di seguire dei corsi di difesa personale lei ha scelto la boxe e di questo sport si è innamorata a 16 anni mio padre mi consigliò uno sport di difesa personale è stato così che mi sono innamorata del ring ha dichiarato a mondolfo il 2023 porterà grandi opere lo assicura il sindaco barbieri la maxi rotatoria all'ingresso della città quella che è posta all'incrocio con la pergolese una maxi rotatoria che avrà anche un risultato estetico per quanto riguarda la visibilità della frazione il nuovo ponte sul cesano il nuovo ponte sul cesano della ciclovia adriatica e la riapertura della media fermi il sindaco barbieri fa il punto di questi importanti investimenti ebbene penso alla maxi rotatoria dichiarato il sindaco all'intersezione tra l'adriatica e la 424 della val cesano destinata a migliorare sensibilmente la circolazione stradale e anche l'estetica della zona ha dichiarato e poi il percorso ciclopedonale da centocroci a san gervasio e poi la costruzione del ponte sul cesano della ciclovia adriatica e l'adeguamento sismico della media fermi che ha richiesto opere per 3 milioni e 135 mila euro a questo si aggiungono i lavori di riqualificazione della scuola primaria e dell'infanzia campus di marotta questi sono gli investimenti principali appunto del comune di mondolfo di mondolfo marotta per quanto riguarda il 2023 quasi 3 milioni di investimento anzi io direi che supera i 3 milioni di investimento ad urbino la lista liberi per cambiare sguardo al futuro il gruppo consigliare di maggioranza annuncia un'associazione e pensa ad affrontare la futura sfida elettorale per quanto riguarda le amministrative del 2024 ieri c'è stata una conferenza stampa ad urbino una conferenza stampa di fine anno di liberi per cambiare la lista civica che ha espresso il sindaco maurizio gambini ed ha annunciato una novità ovvero quella di una della nascita di un'associazione un'associazione che ha l'obiettivo di creare uno strumento di condivisione con tutta la città sarà libera e aperta per permettere a tutti i cittadini di intervenire nel dibattito culturale politico ma anche di interesse collettivo ovviamente è un'iniziativa di carattere elettorale perché tra poco ci sono le elezioni e la lista del sindaco intende accorciare il rapporto con i cittadini renderlo più stretto e renderlo più possibilmente costruttivo diciamo così lotta al covid ateneo in prima linea l'università di urbino con la ricerca partecipa ad un progetto molto importante contro la pandemia l'efficacia di un nuovo farmaco allo studio di un team internazionale che include anche urbino si tratta di una nuova molecola di un nuovo composto si tratta dell'indolo 3 carbinolo che si è dimostrato capace di bloccare almeno in vitro l'uscita e la moltiplicazione del virus dalle cellule umane polmonari infettate quindi si blocca la trasmissione del virus si blocca la pandemia questo è un'importante ricerca che sta per essere fatta che vede urbino in prima linea quindi è importante non solo l'università quale modo per incentivare la cultura dei giovani ma anche per attuare in senso pratico la ricerca e quindi ottenere i risultati vediamo anche un'altra notizia per quanto riguarda l'ospedale di Fossombrone c'è la reazione della maggioranza alle prese di posizione del comitato che ha contestato un po' le dichiarazioni di Michela Vitri e della consigliera del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri Fratelli d'Italia dice che quello che hanno detto appunto loro non risponde a verità in più rischia di pregiudicare il dialogo che è stato avviato con l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamortini Fratelli d'Italia Fossombrone a fila le armi cosa pensano di ottenere parlando con Ruggeri e Vitri punto interrogativo insomma un batti e ribatti sulla questione della sanità vediamo anche qualche notizia pesarese sul resto del Carlino parliamo di Natale parliamo di Natale di solidarietà ma anche di Natale nel senso gastronomico perché poi uno dei momenti topici del Natale a parte l'aspetto religioso è quello gastronomico a Natale è bello pranzare tutti insieme in famiglia ma anche al ristorante Natale con i tuoi ma il pranzo è al ristorante in titola oggi il resto del Carlino molti locali sono già pieni per quanto riguarda le prenotazioni siamo arrivati a livello pre-covid quindi quando è stata cancellata tutta la pandemia tutti i disastri tutti i problemi che ha creato questa apparizione del virus menù da 35 carne a 70 euro pesce lo storico Uldergo nel 2021 eravamo rimasti chiusi ma quest'anno è già tutto esaurito bene in un anno abbiamo superato almeno apparentemente la pandemia e poi la solidarietà lasagne alla caritas colazione in stazione quando la solidarietà apparecchia le feste c'è una grande mobilitazione dei volontari per aiutare chi non ha un pasto il giorno della natività previsti anche pacchi regalo con vestiario e altro ebbene a Pesaro il Natale vero è quello di chi è attento alle esigenze dei fragili degli umili per esempio lo si respira nella mensa della caritas caritas dove i volontari si impiegano si impegnano in prima linea in prima persona e cercheranno di fare passare un buon 25 dicembre a coloro che non hanno compagnia non hanno solidarietà non hanno persone con le quali parlare dialogare sfogarsi e intanto a Fano la Bella Napoli regala 100 pizze un bel regalo di Natale non è un pranzo di Natale ovviamente ma è un bonus che le famiglie povere guardate che i bonus vengono consegnati ai servizi sociali i servizi sociali sanno che devono dare questi bonus le possono consumare anche durante l'anno ebbene fare una bella cena al ristorante della Bella Napoli dicono che forse serviranno anche una bibita quindi mangiare una pizza e una bibita al ristorante gratis offerto dalla Bella Napoli in occasione del Natale è una bella cosa che forse qualche altro ristorante potrebbe emulare se ci sarà l'appoggio e la collaborazione dei fornatori hanno detto i proprietari del ristorante sono Vincenzo Ceglia e Vito Turturiello potremo raddoppiare il numero di buoni pasto portandoli addirittura a 200 e non è detto addirittura che il prossimo anno possono diventare 500 quindi si fanno le cose veramente in grande 500 pizze Siate seri, Pesaro non è mica Disneyland è il titolo che appare per una dichiarazione di fratelli d'Italia che vanno contro la gestione dell'effimero di Ricci del sindaco Ricci al contrario la realtà è desolante a fronte di tante promesse disattese è una botta e risposta per quanto riguarda la politica pesarese e poi invece qua non è una semplice botta e risposta di dialogo ma è un fatto concreto caccia agli evasori della Tari al comune mancano 650 mila euro sono 45 i contribuenti che non hanno versato la tassa dei rifiuti metà della somma è fatta di sanzioni ma succede anche il contrario molti inquilini pagano più del dovuto addirittura e sono stati restituiti 6.176 euro di troppo qualcuno ha sbagliato a fare i calcoli ebbene in particolare chi non ha pagato dovrebbe dare 385.549 euro è la somma ovviamente di tutte le somme evasi questo ha comportato l'avvio degli accertamenti che si portano dietro sanzioni e interessi per esempio le sanzioni sono di 218 mila di 218.118 mila mentre per gli interessi si tocca 46.654 euro ecco perché la cifra poi sale da 385.000 a 650.000 non pagando appunto tocca poi pagare molto molto di più è stata riaperta la strada per arrivare a Fonte Avellana il presidente della provincia dice lavoro ultimato fedeli ai visitatori potranno raggiungere il monastero però la velocità massima consigliata è di 30 km orario ebbene Giuseppe Paolini appena riletto presidente ci sono state domenica scorsa le elezioni fatte soltanto dai consiglieri comunali dai sindaci ormai le province non vengono più elette con il suffragio universale comunque Giuseppe Paolini avrà di fronte a sé altri 4 anni di gestione della provincia un ente che è stato molto depauperato delle sue funzioni ma che comunque continua ad avere una certa rilevanza nella gestione del territorio in questo caso ha potuto riaprire dopo diverso tempo dobbiamo dire la strada di Fonte Avellana un punto di richiamo molto molto sentito da tutto il territorio il Corriere Adriatico dice così ci si potrà andare anche a messa la domenica cresce il disagio psichico nel silenzio delle istituzioni l'allarme della psicoterapeuta Maria Teresa Federici famiglie inascoltate operatori scoraggiati servono tavoli di consultazione con i soggetti coinvolti e questo è l'esame di un dramma che purtroppo rimane molto molto a carico delle famiglie che devono poi sbrigarsela da soli vediamo anche la pagina la pagina eccola qui la pagina che riguarda il calendario dell'altruismo un calendario sempre più vicino sabato ci sarà in omaggio con il giornale una rassegna di immagini con il volto emblematico di chi aiuta gli altri e forse è meglio così che una immagine del territorio ed ora passiamo al Corriere Adriatico la pagina di Fano si riferisce alla prossima seduta del Consiglio Comunale in programma giovedì prossimo dove ci sono delibere importanti all'ordine del giorno una di queste riguarda la variante per la realizzazione dell'ampliamento dell'asilo nido girasole un appalto da affidare entro il mese di marzo perché viene finanziato con il PNRR e quindi occorre accelerare i tempi quindi giovedì prossimo in Consiglio andrà in approvazione la variante c'è tutta l'area attorno all'asilo nido esistente che poi sarà abbattuto per realizzarne uno più grande che ospiterà tre sezioni ebbene questa area che è un'area verde al momento sarà poi trasformata in area edilizia al servizio delle scuole e quindi potrà poi realizzarsi il progetto esecutivo e la gara d'appalto entro il mese di marzo a parte l'asilo di Via della Colonna a parte del nido girasole l'amministrazione comunale investerà anche sulla nuova scuola materna vicino alla scuola nuova di Cucurano Carrara e poi anche a Bellocchi dove ci sarà un nuovo asilo nido svuotavano le slot machine simulavano furti e l'accusa all'ex titolare del Milky Coffee e al compagno con due complici cosa facevano svuotavano le slot machine e dicevano invece abbiamo subito dei furti per giustificare l'ammanco dei soldi che contenevano appunto queste macchinette ottantenni lasciati al freddo il sindaco faccia qualcosa è l'appello che sorge da una coppia che abita nel condominio dell'Erap di Via Marche a Fano nel quartiere del Poderino che rischia un altro distacco del gas il Natale al freddo se alcuni inquilini non pagheranno le bollette arretrate entro domani gli uffici della Prometeo che è l'azienda che appunto fornisce la forza energetica hanno messo in chiaro che il servizio sarà interrotto di nuovo già a partire da giovedì prossimo e quindi c'è un appello perché il Comune intervenga e dopo lo sgombero del Vittorio Colonna come se niente fosse altri ragazzi continuano a entrare abusivamente nell'edificio la segnalazione è dei residenti che temono la ripresa del Via Vai dopo lo sgombero altri ragazzi all'ex convinto questo è l'articolo di fondo che vediamo sul Corriere Adriatico giriamo la pagina siamo a Colli al Metauro quattro nuove telecamere contro lo spaccio a scuola lo spaccio di droga è stato finanziato il progetto di Colli al Metauro per la prevenzione dell'uso di droga altre quattro nuove telecamere che vanno ad aggiungersi alle 15 in funzione per rafforzare il sistema di videocontrollo del territorio e poi vediamo invece che per quanto riguarda la Val Cesano abbiamo appunto l'ossigeno a Fonte Avellana la riapertura della strada si potrà andare a messa come vi ho anticipato durante le festività monastero oggi riapre la strada le altre attività restano bloccate a Senigallia a Senigallia ancora si lamenta l'assenza di servizi igienici bagni chiusi vengono vandalizzati il sindaco non è una giustificazione per trasformare in toaletti i muri come nel caso dei 12 giovani di cui abbiamo parlato nella giornata di ieri dove una delle zone centrali della città di Senigallia viene usata come un gabinetto a sconto del decoro ovviamente una cosa inqualificabile partono a Pesaro i lavori della ex intendenza rabbia e diffidenza dei negozianti a gennaio si issano le impalcature l'obiettivo è terminare gli esterni della struttura in un anno i commercianti temono però per la loro attività perché i lavori potrebbero disturbare l'attività della scuola della strada scusate il demanio rassicura accessi ben indicati e protetti si tratta di un considerevole intervento di ristrutturazione dell'ex intendenza di finanza che come sappiamo è allocata nel grande palazzo storico dei Malatesta e degli Sforza nella piazza centrale di Pesaro insomma questa è una via laterale via Zongo però è una travessa di via branca per i grandi palazzi storici una corsa contro il tempo dopo l'arrivo degli acconti del 10% dei finanziamenti il 2023 non farà sconti era l'ultima notizia a questo punto chiudiamo i giornali non mi rimane che darvi appuntamento alle 7 di domani mattina per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 alle Tg di Occhio alla Notizia di Fano TV grazie per l'ascolto buona giornata a risentirci grazie a tutti